buonasera ciao ben trovati ben trovate ditemi al solito se sentite e vedete bene dovremmo esserci oggi mi vedrete fare un po avanti e indietro con gli occhi perché la camera qua davanti a me però lo schermo dietro e quindi anche commenti poi li leggo dietro sulla destra perciò mi vedrete fare dei movimenti strani con gli occhi non sono non sono matta io volevo solo rassicurare su questa cosa ciao gocce di libri benvenuta ciao ops scusate avevo dimenticato di togliere la suoneria al cellulare così evitiamo disturbi in questo tempo che trascorriamo insieme mi sembra di non fare una diretta da tantissimo tempo in realtà no ci siamo visti il mese scorso per parlare delle letture del mese eppure mi sembra veramente passato tanto tempo forse perché questo mese di aprile per me è stato un mese lunghissimo sono successe duemila cose e non tutte piacevoli quindi ho avuto la percezione che questo mese durasse veramente un'eternità però sono qua eccovi qui ciao cristina ciao ilaria ciao margherita tere adele maria caterina nessi ciao veronica ci ci troviamo man mano ci riuniamo quindi appuntamento consueto con la nostra diretta io oggi sono anche in compagnia di una tazza personalizzata il canale non ve la devo far vedere perché la trovo bellissima me l'ha regalata una mia amica non è una cosa megalomane che mi sono fatta da sola ma poi non ve l'avevo già fatta vedere forse il mese scorso no no l'avevo fatta vedere al gruppo di scrittura non a voi i pezzi i pezzi che si perdono tanto ben trovati ben trovate manuela federica ciao mag e mag sempre presente ciao play born bello trovarvi tutti qui e quindi stasera ci facciamo un po una chiacchierata insieme su questa lettura mi dite intanto chi di voi ha fatto la lettura del mese che era questa qua l'arte della gioia di goliarda sapienza libro scelto per il gdl di questo mese oggi ho scritto su instagram ecco l'avevate vista vedete che sto perdendo pezzi e no ho scritto su instagram dicendovi che la diretta di oggi sarebbe stata un po una cosa diversa ma molto molto sincera però vi spiegherò man mano per quale motivo e quali demoni interiori si sono scatenati in me prima di decidere di organizzare questa diretta che comunque è giusto fare per fare il punto della situazione e poi alla fine come al solito parliamo delle letture del prossimo mese che per i veterani di voi già dovrebbe essere abbastanza noto che cosa succederà nel prossimo mese però ci aggiorniamo a fine video così vi spiego un pochino come organizzarci sia per la lettura che stiamo continuando cioè il ciclo della research di proust sia per la lettura alternativa che offro sempre per chi invece vuole far parte del gruppo però non vuole leggere proust o vuole leggere entrambe le cose ok quindi leggo un po le vostre cose sì cristina sapevo che tu l'avevi letto perché ci siamo incrociate anche in altri in altri posti virtuali margherita questi tre punti ora mi spieghi per cosa stanno ciao skip ok ma che l'avevi letto non l'hai riletto quindi se qua per i pareri ok c'è qualcuno non l'ha letto vi dico subito per chi dovesse recuperare magari questa diretta dopo che ci saranno tantissimi spoiler cioè non intendo trattenere niente di quello che ho da dire e quindi è inevitabile che verranno detti dei dettagli che riguardano sia la vita di goliarda sapienza che secondo me è inestricabile dall'arte della gioia sia sul romanzo quindi se avete voglia di tenervi completamente la sorpresa non guardate questa diretta perché non mi potrò contenere questa sera non potrò non dire determinate cose perciò lo sto dicendo chiaro e tondo gli spoiler ci sono se non li volete interrompete qua guardatelo quando avrete letto il libro dopo non guardatelo insomma scegliete pure voi però ne parleremo in maniera molto molto libera stasera ok laria ci vediamo alla prossima ciao ok quindi eh immagino che chi ehm che chi rimane eh il libro lo abbia lo abbia letto comunque non abbia paura degli spoiler Alessandra a me la tazza non piace ce ne sono le più belle sicuramente sì ce ne sono di bellissime però questa me l'ha fatta apposta la mia amica con il logo del mio canale quindi una tazza unica perciò per l'affetto dell'amica che me l'ha regalata e soprattutto per il fatto che ce l'ho solo io anche perché se qualcuno ce l'avesse mi avrebbe copiato il marchio ehm è una tazza super speciale e sono super felice di averla ok Claudia che non temi gli spoiler brava grande parto dalle note dolenti che sono quelle che vi avevo annunciato cioè ehm perché questa questa lettura eh questa diretta di stasera sarà una cosa abbastanza mh strana per quanto mi riguarda proprio sarà strano tenere questa diretta eh perché oggi nel gruppo tra l'altro è successo una cosa eh nel gruppo Telegram ad un certo punto è partita una discussione che mi ha fatto sorridere un sacco perché eh si parlava di libri iniziati libri da riprendere libri libri abbandonati e eh Daniela ha scritto un messaggio mi sono soffermato e ho detto vabbè è proprio vero che non c'è niente che accade per caso e mi in qualche modo mi agevo la la l'introduzione al video perché Daniela scriveva eh buongiorno riflettevo sul fatto che a volte per vari motivi si lascia la lettura di alcuni libri a metà voi perché ci sembrano noiosi voi perché abbiamo il blocco del lettore voi perché magari in quel particolare momento della vita abbiamo bisogno di leggere altro però a mio parere un libro non va sempre finito di leggere perché penso che fosse un errore va sempre finito di leggere perché può sempre insegnarci qualcosa ci può piacere o meno ma va concluso ergo ho deciso di affrontare una sfida quella di riprendere in mano i libri lasciati a metà perché magari chissà possono rivelare delle sorprese e il meglio deve ancora venire da qui poi vi siete messi a parlare e io mi sono chiesta mi sono detto ok è il modo migliore per poter anticipare questa cosa perché dovete sapere che negli ultimi giorni mi sono sentita tremendamente in colpa sono in una fase in cui ho il mio giudice interiore messo sempre qui costantemente che non fa che ripetere una serie di espressioni sbilenti appossanti come se mi volesse ricordare sapete quel motivetto non sei abbastanza brava non sei abbastanza capace non sei abbastanza non sei abbastanza non sei abbastanza questo non si è abbastanza costantemente e siccome io lo riconosco che questo è il giudice interiore che mi parla cerco di zittirlo in qualche modo non mi succede sempre non so se voi avete questo giudice interiore io credo che ce l'abbiano tante persone e quelle che non ce le hanno non ce l'hanno sono dotate di una di una buona autostima quindi buon per loro però credo che tante persone ce l'abbiano quindi ultimamente sta lì che mi parli mi parla mi borbotta mi stuzzica mi infastidisce io sto lì però sta sempre lì e quindi mi dicevo ma io questa diretta come la devo fare perché mi sentivo in colpa nel senso che io non mi sono mai posta nessun tipo di problema ad abbandonare i libri per me non lo è se ve l'ho detto tante volte se io lo lascio è perché quello non è il momento giusto con i classici tiro un po di più perché secondo me un classico ha un valore aggiunto quindi ha qualcosa da comunicarmi e allora insisto persevero anche grazie al gruppo portato a termine delle letture che altrimenti non avrei fatto non mi pongo mai il problema ultimamente però appunto a causa di questo giudice sono venuti fuori due problemi principali il primo è legato al fatto che dico ma come caschi d'accordo in un gruppo di lettura e mi presento alla diretta senza aver finito il libro ma non solo senza averlo finito mollato proprio malamente in maniera diversa da quello che è successo con prusta lo scorso mese perché se vi ricordate vi ho detto io non l'ho finito ma perché ho bisogno di più tempo quindi mi sono fermata ad un certo punto ho parlato fino a lì e poi ci ho girato un video apposta invece l'arte della gioia l'ho proprio mollato con la consapevolezza che io non ho voglia di riprenderlo ma non solo adesso probabilmente non ne ho voglia nemmeno dopo ma vi spiegherò tutto vi spiego tutto tra poco e il secondo motivo è ancora peggiore cioè il giudice poi ha avuto un upgrade c'è la versione maggiore incrementata incentivata che è dovuta al fatto che io su Goliard da Sapienza sto scrivendo un testo ve l'ho accennato vi ho detto leggiamo l'arte della gioia proprio perché volevo lo stimolo del gruppo e non sono riuscita a finirlo e quindi sono entrata in quello stato critico per cui dico ma come posso tenere un gruppo di lettura in cui parlo di un libro che non ho finito e soprattutto come posso scrivere un libro su Goliard da Sapienza quando il suo capolavoro io non sono riuscita a finirlo. Ho fatto un po' di autoanalisi e ho cercato di dialogare con questo giudice interiore rimettendolo all'interno di una dimensione un pochino più circoscritta e soprattutto interagibile ecco meno meno dominante meno oppressiva e ad un certo punto mi sono detta ok vuol dire che io nel libro scriverò che non sono riuscita a finire l'arte della gioia di quell'arte Sapienza perché probabilmente quello che ho imparato negli anni nella vita magari poi cambierò idea però è che la sincerità paga sempre e quindi è molto più onesto forse scrivere un libro su Goliard da Sapienza dicendo che io l'arte della gioia proprio non l'ho digerito e magari spiegando le motivazioni piuttosto che inventarsi delle cose che non esistono quindi ho sempre chiuso questa cosa con la presente riflessione perché adesso dopo tutta questa premessa siete ancora qui dopo che ho sproloquiato questa cosa? Grazie per la fiducia. Aspettate che vi leggo e ora vi spiego perché io questo libro non l'ho digerito qual è il problema? Allora Cristina il giudice mi appoggi grazie a te mi è caduto solo con l'iguana anche quello è stato una bella fatica da portare avanti però diverso rispetto a questo ma ora vi spiego qual è il problema. Claudia avevo iniziato l'ascolto lo scorso anno ma lo avevo trovato troppo disturbante per me in quel momento. Grazie Claudia per questo messaggio perché già ci stiamo cominciando ad avvicinare a qual è il problema che io ho con questo libro che è uno dei problemi non è l'unico Federica io non ho fatto intanto a finirlo gli spoiler non sono un problema ok vero dilemma è che non ho capito se mi piace o no questo è interessante non lo so se dopo questa diretta avrai qualche chiarimento in più o se sarei più confusa ma intanto ci ci confrontiamo goccio di libri grazie io ho amato la prima parte ma il seguito ho fatto tanta fatica ok a Margherita ti ho trovato la ragione dei tre puntini però tu ce l'hai fatta a finirlo ok Enrique come posso sapere quale libro leggeranno la prossima volta vorrei partecipare aspetta la fine della diretta perché al termine della diretta comunicherò quali sono le opzioni di lettura fra cui puoi poter votare per il prossimo mese ok ok perfetto quindi in generale comunque ho capito che la prima parte è piaciuta di più a tutti allora vi dico il mio problema con questo test qual è anzi i miei problemi principalmente sono due il primo è di tipo no forse sono tre sono più di due sono tre ok allora il primo è assolutamente di tipo stilistico a me non piace il modo in cui questo libro è scritto se ci avete fatto caso ovviamente ci avrete fatto caso perché l'avete letto e siete andati anche molto più avanti di me superata la prima parte poi è tutto scritto come se fosse un copione teatrale quindi sono tantissime battute voi sapete che io nel mondo del teatro ci sto da diverso tempo ora in maniera molto più amatoriale rispetto al passato però posso dire di aver letto parecchi copioni e il problema è che leggendo questo testo io ho risentito molto del modello sceneggiatura anche perché dovete tener conto che Goliardo Sapienza per diversi anni per 18 anni è stata la compagna di Citto Maselli che è stato un celebre regista uno dei suoi film fra l'altro è stato inserito all'interno dei cento film italiani da salvare quindi un regista di un certo livello lavoravano moltissimo insieme erano molto vicini quindi sicuramente l'esperienza che lei ha avuto nel mondo del teatro come attrice e soprattutto nel mondo del cinema ha influito su questo stile di scrittura che però io non sono riuscita completamente a interiorizzare ho fatto un'enorme fatica a distinguere quali fossero le voci narranti perché queste battute mi sembravano scritte e così ci agganciamo a quello che è il secondo problema mi sembravano scritte sempre dalla stessa voce cioè non percepivo la differenza tra Beatrice, Stella, Jacopo, Modesta per me le voci erano sempre le stesse e il fatto che non ci fossero commenti di battuta mi rendeva molto più difficile dal momento che non c'era questa caratterizzazione a mio viso dei vari personaggi capire chi stesse parlando ogni volta e questo ovviamente è un problema il commento di battuta per chi per chiarezza è quella parte di testo che segue la battuta per esempio durerà questa parata fino al giorno del giudizio? disse Tizio nel Macbeth di Shakespeare e questo già ti fa capire chi è che sta parlando per l'appunto io qui non l'ho percepito completamente mi sembrava di sentire sempre la stessa voce altro aspetto legato alla scrittura che non proprio no è questa continua alternanza di presente di scusate prima persona e terza persona questa tecnica che potrebbe sembrare molto moderna e che probabilmente è stata utilizzata anche in testi contemporanei io qui la trovo però demotivata cioè non c'è un motivo per cui in alcuni passaggi Modesta parla in prima persona in altri parla in terza cioè non ci sono dei momenti in cui lei sta entrando più dentro se stessa e quindi parla in prima persona e dei momenti in cui la narrazione si fa un po' più esterna e parla in terza mi sembra tutto assolutamente arbitrario questo mi ha molto disturbata dal punto di vista proprio della godibilità della lettura di questo testo ed è il motivo di base proprio strutturale tecnico chiamiamolo tecnico per cui man mano che andavo avanti nella lettura lo trovavo veramente difficile da seguire il secondo motivo è strettamente legato a quella assenza di riconoscibilità delle voci a cui facevo riferimento poco fa e cioè il fatto che io percepisco qui dentro troppo Goliarda la percepisco così tanto che ho fatto tantissima fatica in più passaggi a rendermi conto che non era modesta che non era Goliarda a parlare ma era modesta questo probabilmente è dovuto in parte anche al mio percorso di approfondimento dell'autrice e forse è stato un mio errore quello di voler leggere l'arte della gioia in questo momento prima di aver completato le altre opere le altre opere che sono state pubblicate in Italia da in realtà poche da Goliarda diverse sono state pubblicate dal secondo compagno Angelo Pellegrino sono delle opere autobiografiche quando lei era viva ne ha pubblicate alcune il primo romanzo non è un romanzo il primo testo che le ha pubblicate è questo lettera aperta è uscito nel 1967 ed è un libro che racconta la sua infanzia a questo poi ha fatto seguito nel 1969 il filo di mezzogiorno che io vi avevo proposto come altra alternativa e che al momento sto ascoltando su Odibolla in parte poi lo sto riprendendo da qui ed è un libro che racconta sempre la sua infanzia la sua giovinezza ma da una prospettiva un po' particolare perché lei non so se lo sapete comunque ha tentato il suicidio e dopo quell'esperienza ha fatto analisi per alcuni anni e questo libro è il resoconto di quegli anni di analisi quindi c'è una sorta di dialogo continuo fra lei e questo medico e durante questo dialogo lei riesuma tutte le conversazioni che aveva fatto e tutti quegli snodi di quei punti nodali dell'analisi che le avevano permessa comunque di attraversare di traghettarsi di passare da un momento all'altro e comunque di avere un grande beneficio per la sua vita leggendo queste opere poi ho letto anche quest'altra che ho già completato che è Yohan Gaben che è un altro testo in cui comunque lei continua a parlare della sua infanzia della sua famiglia della vita in Sicilia del rapporto con la madre la madre di Goliarda Sapienza era Maria Giudice nota rinomata sindacalista che ebbe Goliarda Sapienza quando già aveva 48 anni una vita fra l'altro molto travagliata una famiglia allargata numerosissima e molto molto confusa quindi insomma capite io ho questo bagaglio di letture e anche delle altre cose che non ho qua in questo momento che mi portano dentro la vita di Goliarda quando mi trovo a leggere l'arte della gioia e mi aspetto di trovare un romanzo che abbia per protagonista una donna che non è lei il problema che sussiste è che io sono troppo condizionata da quello che ho letto della sua vita per non vedere dappertutto segni di questa sua presenza che da un certo punto di vista è quasi inevitabile perché per un'autrice che ha sempre scritto molto di autobiografico e che ha fatto anche psicanalisi comporre un romanzo significa comunque traspondere qualcosa di proprio all'interno anche se stiamo parlando di un personaggio diverso però per chi legge o perlomeno per me questa separazione è stata molto difficile vi faccio un esempio pratico tutta la storia con Beatrice che c'è all'inizio del romanzo Beatrice è questa ragazza di 17 anni della famiglia Brandiforti che Modesta conosce quando va via dal convento di Madre Leonora e viene ospitata all'interno di questa famiglia dalla matrona da Gaia e comincia con Beatrice intraprende con Beatrice un rapporto che è un rapporto di amicizia ma è anche un rapporto omoerotico molto esplicito ora Goliarda Sapienza ha avuto una relazione molto forte con delle esperienze omoerotiche da bambina con una ragazzina che si chiamava Nica una vicina di casa che fra l'altro a proposito di torbi di familiari era la sorellastra di Goliarda perché il padre di Goliarda Pettino aveva una serie di donne aveva avuto figli prima di conoscere Maria Giusella aveva portato questi figli dentro la casa dove viveva Goliarda Goliarda era l'ultima nata era la figlia di Peppino Sapienza e di Maria Giudice era nata lei ma viveva in questa famiglia allargatissima dove c'erano i figli del primo matrimonio di Peppino e del primo compagno di Maria Giudice quindi una famiglia molto allargata dove l'incesto era all'ordine del giorno io non so se poi YouTube mi taccia tutte queste parole che sto dicendo che forse sono delle parole scomode però è questo quello che succedeva là dentro quindi quando non su di lei non su di lei personalmente però per esempio la sorella Cosetta che era figlia di Maria la sorella Cosetta aveva avuto una relazione fisica proprio con il padre di Goliarda e aveva avuto anche una storia una specie di di contatto sentimentale con Libero che era un altro figlio del padre quindi capite che tutto quello che poi succede di rovinoso di veramente di melmoso di contorto di brutto anche proprio di brutto all'interno di queste relazioni familiari ma non solo dei brandi forti poi anche fuori Carmine poi il figlio Mattia e poi c'è anche Stella tutte quelle cose che succedono sono difficili molto difficili da slegare da quel vischioso familiare che è stato il vissuto di Goliarda e questo è stato il secondo motivo per cui per me la lettura di questo libro è diventata difficile proprio difficile scindere queste due voci e non percepire la presenza forte di Goliarda con questo voglio essere chiara il più chiara possibile e dirvi che il personaggio di Modesta non è Goliarda cioè su questo no è evidente che è un personaggio creato che ha delle cose assolutamente costruite dal punto di vista narrativo però c'è tanto di suo e se non c'è di suo nel personaggio di Modesta c'è nelle altre figure femminili c'è c'è un po' in tutti in tutti i personaggi della storia cioè Goliarda è un pochino la pupara di questa di questa cosa e dico pupara perché non a caso pupara perché i pupari sono maestri che creano i pupi siciliani non le marionette che riproducono le storie dell'Orlando della chanson de Roland della tradizione dei paladini di Francia e lei da bambina frequentava una famiglia di pupari la famiglia in sanguine che gli ha proprio insegnato poi un pochino questo mestiere un po' l'ha mandata insomma l'ha mandata via però Modesta è soltanto una faccia della medaglia poi è come se Goliarda si fosse disseminata in tutti questi personaggi in tutti questi personaggi femminili è il personaggio femminile più capace di superare tutte le difficoltà che che capitano e di avere una spregiudicatezza poi che la porta a realizzare i propri obiettivi non è l'unico personaggio nel quale ritroviamo Goliarda ma io Goliarda l'ho sentita troppo ecco spero di essere stata chiara in questo senso è un si dice che è un romanzo è buono quando l'autore scompare quando tu ti dimentichi che tra quello che stai leggendo e e te c'è di mezzo un autore che quella cosa l'ha creata la famosa storia che si è fatta da sé ecco io questo non l'ho avuto io ho sentito tutto il tempo la voce di Goliarda ma vi ripeto probabilmente questo è dovuto anche alle letture che io sto facendo contemporaneamente e che mi hanno molto influenzata da questo punto di vista il terzo motivo per cui ad un certo punto ho mollato io ho mollato esattamente a pagina 348 ho lasciato pure il segno nel mezzo quindi esattamente questo il terzo motivo è la quantità di dolore che io ho trovato dentro questo libro negli ultimi anni si è parlato moltissimo di una vita come tante che io non ho mai voluto leggere perché non ho sentito parlare fin troppo cioè io so di che cosa parla so che cosa succede non ho voglia di leggerlo è un po' come con la storia di Elsa Morante so talmente tanto che cosa ci succede dentro che non mi viene voglia di affrontare questa lettura per quanto possano essere delle letture straordinarie però sono troppo influenzata da tutte quelle cose che ho sentito e quindi mi chiedo ma c'è qui c'è meno dolore rispetto a quello che succede là dentro a me sembra che pure qui ci sia una bella sovraesposizione di dolore che è tanta è tantissima e questo personaggio che comunque è controverso e su questo non ci sono dei dubbi è un personaggio che ha una sua forza è un personaggio che è anche molto fedele a se stesso quindi ha una sua coerenza è sicuramente un suo potere però è un personaggio obiettivamente che fa delle cose terribili cioè fa delle cose tremende e prima in pratica è colpa sua sia se muore madre Leonora sia se muore Gaia e non è per fare la moralista però non lo so quanto possa condividere le sue scelte di vita poi restiamo sempre del parere di Oscar Wilde e su questo va bene ci siamo che un libro non è morale o immorale un libro è bello o è brutto punto e su questo d'accordo ci siamo però da qui a ritenere un personaggio eroico io avrei i miei dubbi cioè più che altro direi che lei è un personaggio anti-eroico che riesce a diventare l'eroina di una storia perché comunque non ha le qualità dell'eroe dell'eroina proprio non ce l'ha quindi ho deciso di fermarmi per poi anche intanto per l'esubero di questo dolore che secondo me era anche troppo e poi perché c'è quest'altro corollario che è perdonatemi l'espressione che non è meritevole nei confronti di questo testo però la propagine è SOP perché quando poi cominciano a esserci tutti questi figli e nipoti e poi quello se la fa con quell'altro e quello con quell'altro ancora cioè quando cominciano ad essere tutti questi agganci io perdo completamente l'interesse mi succede anche con le saghe familiari ve l'ho detto anche l'altra volta purtroppo o comunque per dato di fatto io proviamo da una famiglia mononucleare dove eravamo pochissimi alla festa di Natale quando eravamo proprio ai fasti massimi eravamo 10 persone in totale in tutta la famiglia quindi eravamo pochissimi perciò io quando mi trovo davanti a una narrazione dove ci sono più di 7-8 personaggi perdo proprio il senso mi devo segnare le cose non mi ricordo più nulla quindi anche qui considerato già tutto quello che vi avevo detto prima ok fermiamoci basta quello che ho rifatto invece è rileggere la prima parte ho riletto la parte iniziale la parte prima fino praticamente le prime quattro parti cioè parte prima 1-2-3-4 fino a quando non scoppia all'incendio perché l'ho voluta rileggere perché parlando con un mio amico che l'aveva letto da non molto tempo insomma ci siamo un pochino confrontati perché lui mi aveva dato un imbeccato e mi ha detto beh è un ottimo c'è un ottimo racconto iniziale quindi me lo sono andato a riprendere ed effettivamente mi sono resa conto che cioè se avessi letto soltanto questa prima parte fino a lì solo queste quattro parti fino all'incendio sarebbe stato un racconto potentissimo simbolico violento una una di quelle fiabe nere proprio dark un po' tipo trilogia della città di K o la bambina che amava troppo i fiammiferi ecco quell'atmosfera lì e se l'avessi letto come racconto fino a là avrebbe funzionato cioè ha funzionato ha mantenuto destra la mia attenzione mi ha trasmesso tantissimo c'è proprio un un gotico violento che che ho trovato interessante c'è separato da tutto il resto fra le altre cose io questo romanzo lo avevo già provato a leggere lo avevo iniziato alcuni anni fa mi ero fermata non mi ricordo precisamente dove avrò letto un po' forse ma no meno di quanto sono andata ora meno avrò letto un'ottantinaia di pagine un centinaio non mi ricordo precisamente non mi ricordavo più nulla mi ricordavo che non mi aveva preso l'avevo messo da parte del motivo per cui l'avevo riproposto in questa occasione e quindi questo è quanto credo di aver sì allora sto blacherando da 31 minuti vedo che siete ancora qua in tanti e in tante quindi grazie ora mi dovevo sfogare di questa cosa dovevo prima condividere il malessere generato dai miei giudici interiori condividere il fatto che quando uscirà questo libro su Goliarda Sapienza sempre se l'editore confermerà il contratto dopo quello che vi ho appena rivelato probabilmente dentro ci sarà pure la chiacchierata di questa sera tanto per essere un pochino più fedeli alla realtà e poi vi ho spiegato le tre ragioni principali per cui io con questo libro non sono proprio riuscita ad avere un buon rapporto e ho deciso di fermarmi con poche intenzioni di proseguire perlomeno non in questa vita cioè non in questa non in questa tornata non a breve tempo adesso io vado a voi anzi faccio pausa sorso risalgo perché ovviamente avete detto tante cose allora risaliamo da qua allora 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 non vi è piaciuto lo stile ok non vi sono piaciuti troppi dialoghi grazie per il sostegno Meg allora Middlemarch guarda io con Middlemarch ho avuto un po' la stessa tentazione ma ve la dissi pure è stata un'altra lettura molto difficile da portare avanti però in quel caso Middlemarch era diverso non c'era la quantità di dolore che c'è dentro dentro l'arte della gioia e non era nemmeno questo stile di scrittura e quindi io l'ho continuato vi ho anche ringraziato allora quando poi abbiamo fatto il gruppo perché vi ho detto grazie a voi l'ho portato a termine perché altrimenti non ce l'avrei fatta in questo caso ha prevalso qualcos'altro ci sono state delle altre motivazioni che spero di aver spiegato chiaramente ok allora quindi sto tornando parecchio prima perdonatemi a volte era difficile capire chi stesse parlando Margherita ho avuto metto così ecco metto così che vi leggete meglio a volte ho avuto problema di distinguere personaggi e la genealogia quindi il problema è è comune sì anche perché in molti casi era modesta mescolare la realtà e i ricordi quindi erano dialoghi passati che ripassavano nella sua mente almeno così mi è sembrato sì e fra l'altro se vi capiterà di leggere il filo di mezzogiorno che comunque io sto trovando molto bello anche se è un libro molto particolare cioè non è un libro che tu lo apri e ti metti a leggere il filo di mezzogiorno no è un libro particolare è un libro che parla appunto come vi dicevo prima della sua esperienza con la psicanalisi è un libro nel quale la realtà si mescola moltissimo al ricordo della realtà all'interpretazione della realtà che fa questa autrice quindi non è una lettura piana e anche qui ci sono tanti riferimenti alla sua autobiografia che forse sarebbe il caso di conoscere prima di leggerlo quindi capite non è una lettura e tu arrivi e leggo questo libro bisogna conoscerla l'autrice perché altrimenti non non si capisce ci si perde dentro tutti questi riferimenti al suo vissuto che è un vissuto ovviamente personale è questo stesso metodo questa stessa tecnica uguale l'ho ritrovata nel modo di scrivere l'arte della gioia cioè da questo punto di vista è una caratteristica del suo stile quindi è riconoscibile e questo è un plauso poi va capito se a chi legge questo stile è gradito oppure no quello è un discorso differente ok poi avete avuto un sacco di problemi con la genealogia pure io ve l'ho detto anche anche chiaramente eh Emanuela ti sono piaciuti Carmine e Mattia c'è nemmeno in c'è una serie bellissima credo che sia su Netflix se non sbaglio ma io Netflix non ce l'ho più quindi non ve lo so dire con certezza forse sì l'ho vista alcuni anni fa si chiama Jane the Virgin se vi capita guardatela è una cosa divertentissima e geniale perché è una parodia delle classiche soap latine o possono essere in altre parti del mondo però diciamo che quelle latine sono quelle più più popolari ed è una parodia cioè è fatta benissimo proprio perché prende in giro quelle dinamiche da soap per cui c'è il figlio che poi si scopre essere il fratello che nel frattempo ha avuto una relazione con la suocera c'è tutte queste dinamiche assurde qua ecco tipo Carmine Carmine e Mattia ecco Margherita salgo alla domanda di sopra che è delle 9.26 capisco che sono passate dieci minuti però magari mi rispondi perché io sono curiosa di questa cosa che personaggio modesta vive proprio tutte le esperienze possibili immaginabili all'inizio mi era piaciuto molto il suo percorso di autoaffermazione fino a quale punto sono curiosa di capirlo perché io credo di non aver capito quale sia questo percorso di autoaffermazione cioè se una persona per autoaffermarsi deve dare fuoco alla casa perché ha subito una cosa terrificante su questo seno d'accordo poi dopo deve ammazzare una madre superiore e poi deve ammazzare la donna che le ha dato ospitalità in casa cioè non lo so se questo è mi sembra più un percorso da foglietton di fine ottocento che non realistico di cosa una persona veramente può fare nella vita per autoaffermarsi cioè per forza si devono far fuori proprio fisicamente non psicanaliticamente le figure pseudo genitoriali per riuscire ad affermarsi nel mondo lo so io ho dei dubbi su questa cosa però voglio voglio proprio sentire il parere ecco Guadele mi ha detto che che hai mollato allora a me è sembrato che Modesta fosse indenne al dolore ma è una mia impressione una sopravvissuta ma io credo che abbia come personaggio abbia messo una specie di scorza una specie di corazza difensiva una muraglia chiamiamola come vogliamo qualcosa che la tenesse unita dopo comunque diciamo l'unico grande dramma della sua vita perché lui lei ha subito un unico grande dramma che perlomeno fin dopo l'ho letto io poi non lo so dopo cosa succede però lei ha subito una violenza inaudita che non è giustificabile dal suo atteggiamento cioè comunque dal fatto che lei fosse così un po' affettuosa un po' anche curiosa nei confronti di questo padre che le ha usato violenza ma lei è una bambina e quindi ha la sua curiosità aveva nove anni e questa curiosità l'aveva già espressa anche con l'altro ragazzo con Tuzzo cioè non sono delle cose di cui scandalizzarsi i bambini ce l'hanno questa curiosità nei confronti della fisicità della sessualità il problema è il modo in cui poi se ne approfitta quest'uomo e questo è il dramma della sua vita che sicuramente è una ferita profondissima da qua poi matura questa specie di freddezza nei confronti del mondo sì non lo so se è questa la causa perché non sono una psicanalista però sicuramente questo me la rende molto meno umana o forse è più umana non lo so è un personaggio controverso sicuramente da parlare però sapete quando un personaggio è veramente troppo troppo cioè c'è troppo ha troppo dolore fa cose troppo brutte non è un personaggio con cui a me piacerebbe prendere un tè no vabbè osservazioni osservazioni mie Enrico rimane sempre la stessa domanda tutte le narrazioni sono autobiografiche ma questa è una domanda antica quanto il mondo lo sono allora ci sono dei critici che suppongono di sì nel senso che comunque anche nelle grandi opere di fantasia anche nel Signore degli Anelli o nella Guerra dei Mondi comunque chi scrive ha un vissuto e quindi una propria percezione del mondo un proprio stile ed è la propria esperienza autobiografica che l'ha portato poi a maturare quella scrittura quindi anche in quelle opere che non sono dichiaratamente memoir diari o comunque storie che ci riguardano in prima persona l'autobiografia è presente nel senso che se io non avessi vissuto quella vita in quel modo se non fossi arrivata a quel punto lì quell'opera non l'avrei potuta scrivere poi ci sono livelli di autobiografia diversi ci sono testi nei quali volutamente si parla di se stessi e testi nei quali è il vissuto biografico che ha portato a scrivere quelle cose ci sono dei testi nei quali si parla di se stessi ma non sono dei testi attendibili anche nei testi autobiografici quello che stiamo leggendo è comunque letteratura perché non è la realtà dei fatti non è una cronaca fedele cioè quella non esiste qualsiasi opera artistica che sia autobiografica volontariamente o meno comunque è un'opera artistica e quindi non racconterà mai la verità racconta una porzione di verità una versione della verità una visione della realtà non è mai attendibile al 100% quando leggiamo un'autobiografia leggiamo quello che l'autore l'autrice ha voluto raccontare di sé il modo in cui l'ha voluto raccontare su questo ci sono manuali e studi critici molto più approfonditi di quello che vi posso dire però c'è una componente secondo me una componente c'è sempre vi ripeto anche in opere che non sono dichiaratamente autobiografiche quello che però arriva è quello che l'autore o l'autrice ci ha voluto far arrivare di sé e questo è sempre in tutte le cose ok ah qui avete fatto una parentesi su cent'anni di solitudine quindi vado vado avanti ok dovevo sentire la risposta di Margherita esclusi i crimini ok penso a quando studi e cerchi di capire la realtà che la circonda sì allora quella parte quando si interessa un po' allo zio Jacopo no? era lo zio Jacopo e i suoi libri e poi la gestione delle terre e tira fuori tutto questo lato un po' da donna da donna manager molto anteliteram per l'epoca però non so non vi vengono in mente delle figure femminili delle eroine dei personaggi femminili nella letteratura che sono riusciti ad affermare di affermarsi però magari mantenendo una un'integrità ma non mi piace usare tanto questa parola perché forse veramente scadiamo nel moralismo e non è quello che voglio fare l'intento non è moraleggiante il mio assolutamente io parlo di eccesso di dolore non di eccesso di 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 cattiveria o di di illegalità anche se ci sono pure queste cose però non lo so non lo so se è il personaggio che più riesce a incarnare questo sicuramente è un personaggio che ha segnato tantissimo cioè ci sono molte lettrici molti lettori che hanno fatto di modesta una sorta di icona proprio di di modello di personaggio della letteratura rappresentativo io ne posso anche intuire i motivi perché è spregiudicata perché mette se stessa prima di tutto il resto perché non guarda alle regole che non possano essere quelle della propria soddisfazione personale e in questo no in questo aspetto ha qualcosa che affascina a me personalmente non non così tanto cioè non è un modello femminile a cui guarderei come ispirazione ne cercherei degli altri è un personaggio che trovo molto più controverso che non di ispirazione è un personaggio per cui posso provare a chiedermi che cosa l'ha portata a fare determinate cose determinate scelte un po' come farei con Heathcliff di Cime Tempestose che è un personaggio che mi dà ribrezzo però capisco cioè riesco a capire perché si comporta in un certo modo tratta così gli altri qual è il vissuto che ha alle spalle ecco il mio rapporto più o meno è lo stesso nei confronti di lei anche se lei la reputo peggiore come comportamento rispetto a Heathcliff bellissimo il commento di Emanuela che non non rileggerò perché non so se quanto mi taccia hanno per le parole utilizzato che sono tutte parole da non da non usare online ok osservazione di Margherita poi ha dato da riflettere quella sullo studio è per me l'unica caratteristica positiva per il resto nemmeno io capisco come possa essere diventato uno sortimo della femministra su bookstagram non lo so poi c'è da chiarci una domanda e io qui vi chiedo ma siamo sicure che tutte le persone che prendono modesta come riferimento femminista abbiano letto per intero l'arte della gioia perché ci dobbiamo fare anche questa domanda perché da quando esploso booktalk io credo in realtà anche un po' bookstagram non so se i libri effettivamente vengano letti per intero da chi ne parla o se ne vengano fatte così delle versioni edulcorate molto striminzite magari ne leggi soltanto delle parti oppure leggi dei post che vengono condivisi dagli altri o delle pagine isolate e quindi ti fai un'idea di questo certo personaggio che diventa una sorta di eroina positiva e quindi anche di baluardo di stendardo del femminismo ma effettivamente non so quanto la lettura integrale sia stata fatta perché noi oggi abbiamo un grandissimo accesso agli strumenti di formazione agli strumenti della cultura abbiamo anche tantissime opportunità di divulgazione e di condivisione ma quanto effettivamente questi strumenti vengono utilizzati per intero cioè quanto abbiamo la certezza che chi sta scrivendo chi sta parlando quel libro lo ha letto per intero o non ne ha un'infarinatura così generale non ne abbiamo la certezza non ce l'abbiamo mai no? vabbè ah ecco intanto vabbè avete fatto tutto il vostro discorso su Mattia ho capito che Mattia vi è piaciuto tanto va bene poi è un caratteraccio pure lui cioè tipo insopportabile io dico che è l'unico personaggio che mi ha fatto che mi è piaciuto mi ha fatto un po' tenerezza e forse ho anche capito un pochino è Ippolito il marito poi di Modesta no? ed è un personaggio che mi ha fatto tenerezza e anche la scena in cui lei si avvicina a lui quando lui la chiama mamma e lei riesce in qualche modo a calmarlo perché lei pure aveva una sorella con un ritardo ricordiamoci che Ippolito ha la sindrome di Down ecco questo è stato il momento che me l'ha resa un po' più simpatica questo sì forse è uno dei pochissimi momenti Cristina ha scritto Carlo è una o forse l'unica figura positiva del romanzo sembra quasi fuori contesto adesso a proposito visto che prima all'inizio della diretta vi parlavo di intreccio fra biografia e romanzo Carlo che poi sposa Beatrice giusto? se non sbaglio Carlo Civardi allora Goliarda mette dentro questo romanzo Carlo Civardi chiamo questo personaggio così Carlo Civardi è il nome e cognome di un uomo realmente esistito e non un uomo a caso il primo marito di Maria Giudice scusatemi non primo marito primo compagno perché Maria Giudice non si è mai voluta sposare ma il primo compagno cioè il padre di tutta quella infornata di fratelli che aveva Goliarda a casa sua e quindi ci troviamo dentro un personaggio che si chiama nome e cognome come il primo marito il primo compagno della madre di Goliarda che però non è lui cioè lei ha preso in prestito soltanto il nome e il cognome poi non è lui perché Civardi era già morto quando questo personaggio qui invece è attivo e presente li va a trovare ma è un personaggio che ha molto in comune con il Carlo Civardi della vita reale ed è un altro elemento che dispiazza come ad un certo punto compare il personaggio di Maria Giudice cioè lei con questi riferimenti alla storia con la S maiuscola che nel frattempo si sta svolgendo in Italia ovviamente ne approfitta per mettere dentro delle parti del vissuto dei suoi familiari e Maria Giudice madre di Goliarda appunto entra come personaggio c'è dentro alcuni critici hanno detto che nel personaggio di Modesta c'è molto proprio di Maria Giudice c'è chi ha detto che invece ce n'è di più in Joyce tenete conto che Goliarda fece un viaggio in Turchia fatevi a controllo per non sbagliarmi ma il viaggio è in Turchia vi dico precisamente anche quando nel 1960 giugno del 1960 fa un viaggio in Turchia con Joyce Lussu che era la compagna di Emilio Lussu sulla quale fra l'altro è stato scritto un libro che ora è candidato nella dozzina del premio strega quindi ci sono tanti elementi che anche dal punto di vista nomastico si rifanno poi alla vita di Goliarda come come vi dicevo un po' un po' prima ecco Margherita andiamo a rispondere alla domanda di prima Jane R sono pienamente d'accordo con te per me Jane R è un personaggio molto più interessante e molto più femminista se vogliamo usare questa parola che a me non piace tanto però usiamola come un po' ideale di affermazione sociale di indipendenza di autonomia ed è molto più efficace a mio avviso rispetto alla ambivalenza contorta di un personaggio come modesta ok allora torno ancora a Margherita ovviamente non è un modello ma poi esagerata non è neanche verosimile che possano succedere così tanta esperienza a una sola persona e su questo io mi permetto di invitarvi a leggere la biografia di Goliarda Sapienza perché 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 chi ha la fortuna di avere magari una vita un po' equilibrata si sorprende enormemente quando ad una sola persona capitano una serie innumerevole di disgrazie è la stessa accusa che io ho sentito rivolgere tante volte al personaggio protagonista di una vita come tante di cui parlavamo prima il punto è che ci sono delle persone a cui nella vita veramente succedono delle cose romanzesche delle cose incredibili e il fatto che non le raccontino agli altri a volte è per non sembrare veramente esagerati però queste persone ci sono io vi invito a guardarla la biografia di Goliarda Sapienza oppure ad aspettare il libro che uscirà l'anno prossimo sempre se appunto confermo se l'editore vorrà mantenere la proposta dopo questa dichiarazione di sincerità perché lei è uno di quegli esempi di vite strapiene stracolme straripanti dolorosissime che non si augurano a nessuno una vita talmente straordinaria piena di eventi anche eclatanti esaltanti quanto piena zeppa di ferite insanabili cioè una vita lei ha avuto una vita inimitabile e quindi io credo che da una persona che ha avuto una vita inimitabile non si può pensare che possa uscire una storia semplice ecco con meno intrecci con meno ingarbugliamenti con meno matasse perché questo è un libro di matassa è pieno proprio di matassa di grovigli di cose che non sono state sbrogliate di cose che sono state sbrogliate e sono state elaborate in un altro modo si vede che comunque c'è di mezzo l'esperienza della psicanalisi che le ha permesso di vedere il mondo anche secondo delle 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 prospettive delle delle reti quindi io vi invito a farlo anzi vi volevo leggere una cosa a questo proposito proprio da dal filo di mezzogiorno che vi ripeto ancora una volta è quello tra tutto quello che ho letto finora di Goliarda Sapienza vi devo dire che è quello che mi sta piacendo di più però dopo aver letto le altre cose dopo aver conosciuto la sua biografia e soprattutto perché ci sono delle parole che sento molto su me stessa c'è un momento in cui questo psicanalista sta parlando con lei sta parlando con con Goliarda in questo caso è Goliarda non è modesto il psicanalista parla con Goliarda e le fa un quadro della sua situazione del perché lei si comporta sempre in una certa maniera e le dice lei è un'abbandonica da buona abbandonica afferrato l'occasione per sentirsi abbandonata solo perché le ho detto che qualcosa deve cambiare fra noi io non l'abbandono né voglio che cambi perché mi piace così com'è voglio solo che si rinforzi un pochino che prenda coscienza di sé prenda coscienza che lei è una donna di valore che nessuno vorrebbe mai abbandonare si deve rendere cosciente deve portare alla coscienza il meccanismo abbandonico che la fa troppo paziente e paurosa con gli altri lei non ha bisogno degli altri o almeno non così come nelle fantasie infantili si è raffigurata è lei che vuole essere abbandonata per questo lo teme tanto vuole provare quell'emozione che nei suoi primi anni si identificava con la vita stessa questa è la parte più bella lei ha conosciuto la vita attraverso questa emozione cioè l'abbandono lei ha conosciuto la vita attraverso l'abbandono e la vuole riprovare perché nel suo inconscio non c'è vita senza questa emozione sa come si chiama il meccanismo del riesumare nel presente situazioni passate per ritrovare quelle emozioni negative o positive che siano perché solo quelle si sono conosciute e sperimentate e si identificano quindi con la vita stessa destino coatto Goliard da Sapienza ha scritto poi una raccolta di poesie scusate di novelle che si intitola proprio così destino coatto riprendendo questa espressione cioè quel far ritornare nel presente rimetterci dentro ricreare riandarci a infilare dentro delle situazioni conosciute per provare delle emozioni già vissute nel presente passato delle emozioni che possono essere molto belle o anche molto spiacevoli però il punto è che a livello di meccanismo psicologico questo è quello che lei riporta qui siccome è quello il modo che abbiamo avuto di conoscere il mondo attraverso quelle emozioni è necessario inconsciamente andarle a rivivere perché il modo è solo questo non abbiamo altro modo di conoscere la realtà quella è la realtà sperimentata e conosciuta quella attraverso tale tipo di emozioni e questo è il motivo per cui poi si innescano dei circoli viziosi anche quando ci si vuole liberare di un certo comportamento di un certo vizio di un certo atteggiamento che non ci piace però questo destino coatto tende a ritirare quel tipo di emozione perché quella è l'emozione conosciuta nel bene o nel male e questo per dirvi che per esempio in questo testo in questo qui io le voci le sento molto distinte ed è una cosa quasi paradossale perché qui invece abbiamo una unica autrice che è Goliarda che sta raccontando il proprio percorso con lo psicanalista e che dà voce a se stessa e allo psicanalista eppure le due voci si riescono a distinguere nettamente si sente la voce sperduta confusa molto disorientata di Goliarda e la voce rassicurante fiduciosa dello psicanalista è come se lei si fosse sdoppiata proprio in due personaggi in due parti di se stessa una parte di se stessa che si voleva affossare e una parte di se stessa che si voleva prendere per i capelli e tirare fuori dal pozzo e secondo me è riuscitissima questa cosa qui riesce a fare questa distinzione di voci in maniera molto efficace funzionale riuscita cosa che appunto nel romanzo io non ho percepito alla stessa maniera ok vediamo di ok allora Rosa dice ho trovato un testo molto potente il dolore che dicevi non l'ho sentito molto a differenza di quello che mi è successo con una vita come tante io sì io credo che però dipenda anche molto dai propri vissuti personali e da quello che noi che ciascuno di noi intende per dolore quindi credo che in questo ci sia una componente sicuramente soggettiva in quello che sentiamo ok Luana a te è piaciuto? va benissimo ci mancherebbe ognuno ha il proprio io tanto ho già ho già detto tanto in anticipo tu sei arrivata dopo però io già l'ho sproloquata abbastanza su quanto per me invece sia stata una lettura proprio a scoglio difficilissima da fare e poi certo Margherita ci mancherebbe scritto quella che è stata la tua impressione io ti ho dato solo un parere personale dicendoti comunque secondo me la biografia proprio di Goliarda aiuta anche molto a capire di più questo testo Ambra no allora il protagonista protagonista deve essere necessariamente un personaggio positivo no non deve essere necessariamente un modello positivo assolutamente ci sono tanti personaggi che sono proprio anti-eroici e funzionano funzionano molto bene a livello narrativo il problema di cui stavamo discutendo è il fatto che negli ultimi anni intorno più che ancora la figura di Goliarda Sapienza che è una figura molto potente da considerare da un altro punto di vista però intorno al personaggio di Modesta si è creato una sorta di esaltazione femminista come se lei fosse un modello di emancipazione di realizzazione del femminile della donna e questo era il punto quindi non tanto il fatto che lei non sia un personaggio positivo vabbè può anche stare ma poi non è che non sia un personaggio positivo un personaggio controverso non è un personaggio non è del tutto positivo ma del tutto negativo un personaggio controverso tuttavia è un personaggio che è diventato una sorta di bandiera dell'affermazione femminista e ci stavamo confrontando sul fatto che in realtà il suo modello di comportamento non può essere considerato il più rappresentativo cioè se vogliamo un ideale di donna che si è riuscita ad affermare nel mondo io non credo che il fine giustifichi i mezzi sempre non per una questione di moralismo ma per una questione di coerenza credo che sia come diceva come scrivevano prima come scrivevano sopra mi pare Margherita proprio genera sia un personaggio che riesce pur essendo più datato rispetto a modesta un personaggio che riesce ad avere una sua una sua coerenza una sua affermazione del femminile che poi non è che per forza bisogna essere donna uomo cioè una persona che fa delle scelte ammirevoli può essere una donna così come un uomo può essere apprezzato sia in un caso che nell'altro cioè non è una questione di sesso io su questo sono molto va benissimo qualsiasi sia il modello non è che debba essere per forza una donna il modello di una donna un uomo il modello di un uomo cioè può anche essere un uomo il modello di una donna una donna il modello di un uomo non cambia nulla in questo senso ok va bene stavo vedendo un po' le vostre cose si Luana poi se vuoi riprendila visto che tu il libro lo hai amato forse le mie considerazioni ti lasceranno un po' perplessa però può essere anche un modo per confrontarsi io vi ho voluto spiegare apertamente quali sono state le mie perplessità e le ragioni per cui ho volontariamente deciso di non farmi più del male quindi di interrompere la lettura lì dove vi ho detto e ho fatto pace con il mio giudice interiore che ad un certo punto nel momento in cui ho accettato questa cosa ha semplicemente smesso di blaterare si è stato zitto e probabilmente si è andato a prendere un cappuccino a starbucks quindi va tutto bene così ok io spero di avervi risposto se ho saltato qualcosa vi chiedo scusa se ho saltato qualche qualche riflessione importante eventualmente la volete ricondividere di nuovo se c'era qualche punto qualcosa a cui non ho risposto scusate a volte è un po' complicato tra la camera qua davanti appunto lo schermo qui i commenti di là mi va la testa un po' fuori però se se c'è qualcosa insomma se qualche punto che è rimasto sospeso e che volete discutere scrivete pure io bevo un attimo e andiamo quindi direi a questo punto sì che ci siamo con le proposte di lettura per il prossimo mese vado con questo poi eventualmente se c'è qualche altro commento che riguarda l'arte della gioia lo vedo dopo e rispondo allora come sapete perché frequentate tutti il gruppo di lettura da un po' per quest'anno abbiamo deciso di leggere Proust ed è un'impresa nella quale non si sono gettati tutti c'è qualcuno che lo sta facendo qualcun altro che ha deciso di no quindi come vi ho detto all'inizio dell'anno io conduco delle letture parallele perciò vi propongo intanto la lettura del terzo volume di Proust per il mese di maggio in realtà vi dico maggio giugno almeno maggio giugno e a questo affianchiamo poi delle altre letture fra cui votare il volume della ricerca appunto è il terzo ed è questo qui dalla parte la parte dei Germont volume numero tre ok e perché vi ho detto almeno due mesi preparatevi ok psicologicamente questo è il più voluminoso dei tomi della research è il più grosso ok ed è anche considerato quello più lento sto sparando tutte subito così siete pronti è tempra morale quella che vi sto dando va bene si può leggere il terzo volume senza aver letto il secondo io allora so di qualcuno che li legge assolutamente a caso prende il quinto poi prende il settimo cioè legge così un pochino sparsi sinceramente credo che sia più giusto seguire anche se non è non è proprio una saga però ci sono dei personaggi che per esempio sono state sono state ci sono dei personaggi che appunto sono stati introdotti nel secondo e quindi arrivano qua secondo me è più giusto leggerli di fila però però insomma prendetela molto con le pinze perché io lo sto leggendo con voi lo sto leggendo con voi per la prima volta quindi non è che io abbia tutta questa esperienza su Proust però è bello grosso è molto lento è molto descrittivo è molto salottiero e quindi pochi pochissimi avvenimenti tantissime descrizioni aspettiamoci proprio la l'exploit della creme della creme della sintassi Proustiana mi sta alla dettagliatissima osservazione spazio-temporale della Francia di fine ottocento edizio novecento edizio novecento va bene quindi prepariamoci a questo straordinario viaggio dentro il terzo volume che vi ripeto ha almeno due mesi ce lo tiriamo avanti io sicuramente non credo che andrò molto spedita con questa lettura perché già appunto con all'ombra delle fanciulle in fiore come sapete sono andata molto molto piano poi sono contenta di averlo letto lentamente se qualcuno ha bisogno di una rinfrescata trovate il video salvato sul canale ho fatto un video apposta su all'ombra delle fanciulle in fiore non una diretta proprio un video proprio per lasciare un commento caldo per chi volesse recuperarlo dopo oppure volesse andare avanti ma ha bisogno di una spolverata quindi ve lo trovate lì ok ne faccio fatica Cristina comunque ho letto scusami questa cosa ci si è fatta cambiare il turno di lavoro per essere qua stasera ma che cosa veramente bella cioè grazie per questo grazie che dirti è un onore è un onore è un grande piacere poi andiamo all'altra proposta per chi non avesse assolutamente voglia per esempio Cristina che non te la senti leggere Proust io per questo mese vi propongo tre alternative ora aiutatemi voi e mi dite se questo mese si vota su Facebook o su Telegram lo scrivete così io lo dico aiutatemi voi che non ricordo più forse su Telegram allora questo mese io avrei pensato una cosa di proporvi tre letture di contemporanei contemporanei sì e ho pensato a tre titoli che sono selezionati nella dozzina dello strega di quest'anno strega italiano ok nella dozzina non ci sono moltissimi libri che io ho voglia di leggere ce ne sono tre barra quattro che hanno chiamato un pochino la mia la mia attenzione e ve li voglio quindi segnalare perciò si vota su Facebook grazie no aspettate ma c'è chi dice Facebook chi dice Telegram oh dove si vota aiuto non abbiamo scusate l'arte della gioia dove è stato votato su Facebook se non sbaglio o no no vabbè aiutate voi io aspetto voi su questo non mi pronuncio intanto vi dico quali sono avevo pensato Ferrovie del Messico ma ho bocciato immediatamente la cosa perché io altro libro che ho cominciato a leggere sono arrivata a pagina 400 cioè a metà della lettura è stop proprio stop sono arrivata non mi ha proprio preso più la voglia di andare avanti con la lettura mi ha annoiata penso di essere la voce meno popolare in assoluto perché questo libro sta andando alla grande credo di avere io evidentemente delle difficoltà al momento perciò nemmeno ci provo non ve lo propongo neanche vi propongo altre tre cose due ce ne ho solo uno uno ce l'ho ve lo faccio vedere gli altri due ve li cito soltanto perché non ce li ho fisicamente ok si vota su Facebook questo mese va bene basta siamo tutti d'accordo quindi vi dico questi tre titoli ve li posto su Facebook votate il libro che prende più voti sarà la nostra lettura del mese di maggio il primo è rubare la notte di Romana Petri che è l'unico che io ho cartaceo a casa e che mi ispira tantissimo questo proprio è quello della dozzina che mi ispira di più in assoluto perché sono un po' in vena di biografie come avrete immaginato e questo è un libro biografico di sulla vita di Senex Fipari cioè l'autore di del piccolo principe l'autrice è Romana Petri che è una scrittrice italiana molto apprezzata che io ho scoperto da poco cioè la conoscevo di nome ma ho cominciato a leggerla da poco ho letto una sua raccolta di racconti molto molto bella lei scrive benissimo che è benissimo e quindi mettiamo insieme una biografia di una vita eccezionale quella di questo autore con una penna molto sapiente che è appunto quella di Romana Petri il libro mi ispira e questo è il primo il secondo è dove non mi hai portata di Maria Grazia Calandrone è un romanzo che racconta parte della vita dell'autrice che è una rinomata poetessa italiana una poetessa brillante molto profonda e sensibile è veramente notevole quello che lei lascia e soprattutto la storia della sua vita lei è stata lasciata da bambina piccolissima poco più che neonata in un parco a Roma se non sbaglio era Villa Borghese e poi i genitori biologici poco dopo si sono tolti la vita l'hanno lasciata lì nel parco la bambina poi è stata fidata alla famiglia Calandrone che l'ha cresciuta lei racconta questa storia la storia della sua vita e ricerca questi genitori biologici naturalmente questa è la storia singolare unica irripetibile della propria vita io ho sentito parlare molto bene di questo testo e ho già letto Splendico è vita sempre di Maria Grazia Calandrone l'avevo letto due anni fa è un romanzo poetico sul rapporto fra lei e la madre adottiva l'ho trovato veramente bellissimo quindi è un altro libro che vorrei leggere il terzo che vi propongo è le imperfezioni di Vincenzo Latronico aspettate perché forse vi ho detto il titolo sbagliato beh ragazzi si è fatto tardi pure per me perdonatemi che controllo prima di aver detto cose sciocche perché non avendolo poi le perfezioni scusate le perfezioni di Vincenzo Latronico è un libro di buon piani e di questo io ho sentito tantissimi commenti positivi dovrebbe essere il libro rappresentativo della generazione millennial che ha per protagonisti due ragazzi un ragazzo e una ragazza se non sbaglio che si trasferiscono a Berlino dall'Italia e qui realizzano una vita professionale che dovrebbe essere la vita perfetta perché hanno avuto dalla vita tutte le agevolazioni possibili eppure non riescono a trovare quella soddisfazione che gli sarebbe stata promessa dal sistema studia laureati sistemati apposto così e a me incuriosisce anche questo testo un po' vedere come viene raccontata la generazione millennial che ovviamente è la generazione di cui si può parlare più adesso si è parlato tanto delle generazioni precedenti c'è stato più tempo quindi adesso si comincia a parlare di generazione millennial e vorrei vedere insomma un po' cosa ha fatto l'autore anche in questo caso ho sentito delle opinioni dei pareri positivi finora l'unico libro presunto sui millennial che avevo letto è normal people di Sally Rooney che per me è stata una delusione totale non è secondo me all'altezza di raccontare la generazione millennial ho bisogno di qualcos'altro quindi vorrei provare questo testo perciò queste sono le tre opzioni anche perché così ho pensato a qualcosa di meno impegnativo rispetto a un classico più importante soprattutto rispetto all'arte della gioia e anche rispetto a Prusta perché potrebbe esserci qualcuna qualcuno di voi che decide di fare entrambe le letture e mettere insieme lo so i Ghermonte e i fratelli Karamazov mi sembrava un po' troppo impegnativo quindi ho voluto mettere insieme anche un'opzione B un po' più contemporanea per dare un'occhiata a quello che sta succedendo anche in Italia e per non appesantire troppo il carico di letture che facciamo quindi metterò le opzioni su Facebook avete tempo per votare oggi è venerdì vi do tempo per votare fino a domenica in modo che poi già dall'1 maggio si può avviare la lettura come abbiamo fatto le altre volte alla fine del mese ci sentiamo quindi alla fine di maggio per parlare della lettura del libro Strega che sarà più votato mentre Proust penso che come vi dicevo questa volta ce lo tiriamo un pochino più a lungo quindi immagino almeno fino alla fine di giugno quindi ci tiriamo due mesetti per andare avanti con Proust Emanuele ha scritto non so perché ho pensato alla Revolutionary Road mentre parlavi delle perfezioni eh sì un po' sembrerebbe in un certo senso anche se la Revolutionary Road è ambientata in un'altra epoca in un altro paese ci siamo negli Stati Uniti poi sono due personaggi anche insomma con un vissuto particolare un personaggio femminile lì che è molto trainante per lo sviluppo della storia a causa di quella che è la sua no nevrosi non lo so non lo so potremmo provare a fare questa associazione prima dovremmo leggerlo il libro per vedere se c'è qualche affinità però sì in termini di fallimento del sogno borghese Revolutionary Road è il romanzo perfetto che esprime questo concetto ok quindi io a questo punto direi che ci possiamo dare la buonanotte sono le 22.19 io vi ringrazio per essere stati qua per essere state qua eh ringrazio Cristina in particolare ti voglio ringraziare per questa eh tua presenza stasera il cambio del turno al lavoro mi ha mi ha fatto tanto 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 piacere eh sentire questa cosa davvero tanto va bene eh grazie a tutti grazie a tutte ci vediamo domenica con un video sul canale ci aggiorniamo sempre sui nostri altri social buonanotte a tutti e a tutte e eh basta ho detto ho detto ogni cosa ho detto tutto buonanotte ciao ciao